Qui trovi la spiegazione veloce su come utilizzare il modulo Amazon Marketplace per sincronizzare le tue offerte su Amazon entro 20 minuti. Il modulo è preconfigurato, comunque puoi attivare le caratteristiche di cui hai bisogno in questa pagina. L'aiuto sensibili al contenuto, un gigante tooltip, mostra quanto sia facile ottenere ed inserire le tue chiavi di accesso Amazon. Puoi anche personalizzare le tue esportazioni, arrotondamento, prezzi, regole e filtri tra le caratteristiche. Il modulo lavora con qualsiasi piattaforma Amazon, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Europa e tutti gli altri stati Amazon. I parametri del modulo sono spiegati in tooltips, qui in giallo, ma anche in documentazione online. Ogni etichetta ha una pagina di documentazione semplice. Tutto è spiegato in una singola pagina. Per tua comodità le caratteristiche sono già selezionate. Il modulo aggiunge automaticamente i lavori programmati, i cronjobs. Il modulo interagisce automaticamente con i moduli cronjobs da PrestaShop. Un'etichetta facoltativa è disponibile sul foglio prodotto per migliorare il tuo flusso, ma anche per personalizzare la tua offerta per Amazon. Prezzo, spedizione, tempo di esecuzione e molte altre caratteristiche. Per esempio, qui puoi inserire cinque frasi accattivanti o caratteristiche chiave del prodotto per evidenziare meglio la tua offerta. Qui puoi disabilitare il prezzo prodotto. Spiegazioni chiare e semplici sono fornite come tooltips. Permettici di inviare le offerte su Amazon. L'interfaccia è semplice e chiara. Un tasto per verificare e un altro tasto per inviare. Pochi minuti dopo le tue offerte saranno pubblicate su Amazon. Il registro ti informerà quando l'operazione sarà avvenuta con successo. Anche le importazioni di ordini sono semplici. Un tasto per mostrarle, uno per importarle. Qui c'è un ordine importato dal modulo. Tutto è importato a dovere, nome, indirizzo, prodotti, tasse e spedizioni. La fattura viene inviata automaticamente al cliente.